Arrivo. Salta su. Vado. 3, 2, 1. Adesso esplodiamo. Ti prego non farmi esplodere. Ti prego non farmi esplodere. Attenta. Torna nella navicella. Torna nella navicella. Che cos'è? Ci sono dei porcospini. Eh ma che bello questo pianeta. Siamo sulla luna. Sarebbe la luna sì del nostro pianeta. C'è una gravità diversa. Prova a saltare. Oh mio Dio. Che figo. E ragazzi come va? Io sono Ferinichi. E io sono Stef. E questo è Giacchia Mastro, Nir. E finalmente siamo tornati nel nostro pianeta che però tra poco abbandoneremo perché in questo episodio cercheremo di viaggiare verso altri pianeti. Sperando di non morire. Andremo. Nel viaggio ci proveremo. Andremo nello spazio, viaggeremo tra i pianeti ed esploreremo finalmente dei nuovi posti. Dobbiamo essere super organizzati. Ok. Prima cosa che andiamo a fare. Andiamo in una caverna al volo e ci prendiamo un po' di materiali. Che utilizziamo nel coso per scambiare. Per farci dare del litio. Nella piattaforma per scambiare. Nella piattaforma di scambio. Per avere del litio che utilizziamo per creare una batteria. Per dare energia al rover. Ok. Perfetto. Perché voglio fare questo test. Dopodiché utilizziamo il composto e l'idrazina e partiamo. Ok. Ok. Allora dammi un secondino perché ogni volta che entro. Non ti do nessun secondo. Mi leva tutti i miei materiali. Quindi siccome questa volta per non perdere gli elosotti nelle piattaforme di stoccaggio e me li sto riprendendo. Non prendere troppe cose ovviamente che ci serve essere liberi. No i pannelli solari. I pannelli solari per energia che sono essenziali. Quindi arrivo. Sì. Mi hai visto dove sono? Sì. Sì. Perfetto. Ci sto raggiungendo. Andiamo in questa cavernina qui. Non ho un titer. Vedi dei materiali rari da qualche parte? No. 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 Da che parte andiamo? Che dici? Questa? Sto cercando un attimino di capire. Ok. Sì. Guarda qua. Sì. 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 Perfetto. Perfetto. Occhio che non ci siano piante. Occhio che non ci siano piante. Non ne vedo. Non ne vedo. Vai. Prendo la laterite. Poi ovviamente ne prenderai anche tu perché ci dobbiamo riempire entrambi in modo tale di andare sul sicuro. Perché sinceramente non so quanto vale litio. Ok. Quindi più materiali di questo genere prendiamo meglio è. Ok. Ho trovato dell'idrazina. Sinceramente va bene anche quella perché comunque ci serve carburante. Ok. Perfetto. Perfetto. Io mi sa che ne posso prendere una. Dopodiché è tutta tua. Andiamo. Ne abbiamo sei da portare a casa. Vai. Sì. 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 Almeno ci facciamo un sacco di materiali. Bello. 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 Ehm. Non so se portarli tutti insieme o lasciarli qua. 15. Boh. Io li sto portando in avanti. Non siamo così lontani. Dai ascolta ne prendo una vado e torno su. Dai ci mettiamo una vinta. Ok. Io ne metto e li porto avanti. Eh dai fai così. Stanno. E poi io vengo a prenderli una a uno. Va bene. Ma alla fine nel tempo in cui ne hai portato uno li ho portati tutti e cinque. È difficile. Spiegami com'è possibile. Ti devi stare zitto. No tu spiegami com'è fatto ad essere così lenta. Mi sono persa anche con le strade. Allora vieni. Come fai a perderti quando hai l'accampamento segnato? Non lo so. Dov'è cosa di ricerca? Qui giù. Qui giù. Eh. Il più lontano doveva essere. Eh sì. Il più lontano. Infatti li sto lasciando lì sopra. Che fortuna. Vediamo. Prima di tutto ricerca o oggetto? Secondo me oggetto? Mmm. Oggetto. Oggetto. Rame. Ah. Che tristezza. Tristezza. Mi aspettavo qualche materiale un po' più. Poi. Capito? Figo. Facciamo questo. Fail di Ferrenichi numero uno di oggi. Ma no. Eh sì. Avevi la responsabilità di trovare... Ma vabbè dai. Sembrava figo. Qualcosa di bello. Boom. Steph uno. Ferrenichi zero. Litio. Allora. Allora. Innanzitutto io ne ho preso anche altri. Quindi quello non puoi sapere. Tieni. Se l'ho preso io se l'ho preso tu. Hai spazi nell'inventario? Sì. Ok. Te l'ho messo. Craftati la batteria. Ok. Vado. Così finalmente hai dell'energia extra. Batteria. È arrivata una tempesta. Che ho preso il più bello. Ma finalmente però abbiamo entrambi la casa in terra. Ok. La prima tempesta in cui stiamo entrambi sull'habitat. Sì. È un evento. Anche questo. Ti devo fare una domanda. Comunque. No. Ti devo dire una cosa. No. Io ti devo fare una domanda. Io ti devo dire una cosa. Vai. Ho messo i quattro laterite nel fonditore. Si è buggato e mi ha dato solo un alluminio invece che quattro. Ok. Vai dimmi. Fammi la domanda. Dai dai dai. Fammi la domanda. Bisogna riflettere su questo tuo fail. Non è il mio fail. È un bug del gioco. Sì. Tu che bug i giochi. È il tuo punto è colpa tua. No. Non è colpa mia. Io adesso chiamo gli sviluppatori e gli dico che è colpa tua. Fammi questa domanda. Allora. Ti dicevo. Ma secondo te. Nel momento in cui andiamo nel nuovo pianeta. Possiamo anche tornare in questo? Non rivedremo mai più la nostra bellissima bug. È una bellissima domanda. Secondo me. Secondo te possiamo viaggiare oppure solo andata. Ho prurito. Secondo me possiamo anche. Ti gratto io al naso. Oh. Così. Ma non ti arrivo. Ho notato. È finta che te lo sto grattando. Grazie. Va molto meglio. E quindi c'è potremmo tornare oppure no? Perderemo tutto oppure no? Capito? È una bella domanda. Boh. 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 Vabbè lo vedremo. Tanto nel caso andiamo e non torniamo mai più. Ma secondo te non ho posto e ne dobbiamo fare due? Ah. E che fai? Mi lasci qua? Mi abbandoni in un pianeta? Scusami. Eh ci potrei. Guardami. Ci potrei fare un pensierino. Sei un po' cicciotta. Mangi troppo. È difficile so amarti. No. Ho scelto l'astronota che più mi rappresentasse. Fa futello come me. A posto. Ehm. Secondo te questi sono cosi dove mettere l'idrazina? Sì. Sì. Uno. Due. Adesso serve un posto e l'altro posto. Ma se noi le smontiamo da qui. Guarda. Le possiamo prendere dal veicolo? Sì. Arrivo. Salta su. Vado. Oh che bello. Tre. Due. Uno. Adesso esplodiamo. Ti prego non farmi esplodere. Ti prego non farmi esplodere. Ti prego. Ok. È bellissimo. Ci siamo? Siamo vicini al pianeta. Oh guarda. Ok. Dobbiamo. Atterrare. Devi ripremerlo. Stiamo cadendo. No. Credo che stiamo. Oh. Possiamo scegliere dove andare. Non l'avrei mai detto. Ma davvero? Arido. Incolto. Io non lo vedo. Terrestre. Andiamo nel terrestre. No nel terrestre dove eravamo. Ok. Quindi dobbiamo scegliere tra arido e incolto. Oh che difficile. Ma sono tra quelli? Gli altri sono troppo lontani. Sì. Andiamo arido. Dai. È più grande. Ok. Va velocissimo. Che bello. Dai. Atterriamo. Per favore. Ti prego. Non voglio esplodere qui in mezzo. Ah. Possiamo scegliere anche il posto. Ah. Bellissimo. Vai scegli. Qua. Sappiamo che c'è. Quindi molto a sentimento. Ma che figata. Non avrei detto che si abbia fatto così bene. Cioè scegli il pianeta. Quindi scegli appunto se tornare a casa. E scegli pure il punto esatto dove atterrare. È bellissimo. Che postazzo. Ok aspetta. Ah. Oh che posto brutto. È vero? Ma è incolto proprio per davvero. No arido per davvero. È arido questo. Sembra Marte. Eh. Che strano. Sono confusa. Ho una domanda. Ok. Ah ok. Ecco. Ok. Ho risposto alla domanda. Dicevo come facciamo facendo così. Attenta. Torna nella navicella. Torna nella navicella. Ci sono dei porcospini. Credo che siano le rocce di questo pianeta. Dove? Non le vedi? No. Ci stavano colpendo. Erano una specie di Sonic però con le punte. Sonic con le punte. Era terrificante. Io non vedo neanche la base che hai costruito. E che in superficie in questo pianeta c'è la laterite. Che noi trovavamo solo nelle caverne. Quindi. Perché probabilmente anche nelle caverne c'è un clima arido. E quindi. Subito delle differenze tra un pianeta e l'altro. Prima differenza che notiamo oltre a quei porcospini. No ma allora. Cioè vogliamo parlare del fatto che ci sono tantissimi pianeti da esplorare. Perché c'era quello piccolo in un colto. Piccoli due in lontananza. Quindi man mano che vai da un pianeta ti puoi spostare poi negli altri. Esatto. E' pienissimo di cose. E' una figata. E' una figata. E' senza contare il fatto che poi puoi anche riviaggiare e spostarti in un'altra parte del pianeta. E' vero. Magari giusto se vuoi curiosare perché non... E' vero. Questo materiale non l'abbiamo mai visto. Eh no sì. Ovvio. Cos'è questa cosa? Titanio! E' finalmente il titanio! No però ci sono le piante velenose. Via 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 via. Il porcospino da dietro mi ha colpito e mi ha ucciso. Corre in base. Corre in base. Non è possibile. Ci sono... Ma è molto ostile sto pianeta. Veleno e porcospini. Allora tu arrivavi da lì quindi il mio corpo è lì. Sembra che i porcospini arrivino in base a da dove arriva il vento. Ok. Ho notato questa cosa. Quindi bisogna un attimino sfruttare... No 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 è impossibile. È impossibile. Ne stanno arrivando tantissimi. Torna in base. Torna in base che tu non li vedi. Accidenti. Io cerco di schivarli e di prendere almeno uno o due di titanio. Perché è un materiale troppo importante per non portarci la casa. E poi non possiamo tornare a casa senza un bottino. No assolutamente. Cioè sarebbe davvero ridicolo e vergognoso. Cosa mi stai prendendo in questo momento gioco? Spiegami. Titanio? È così difficile da prendere. Cioè ho finito l'energia e non me ne ha preso neanche un po'. Non è che si utilizza la gru? Molto probabile lo sai. Magari qualche macchinario. Perché no? Non stai prendendo nulla. Capito? Ci vuole qualche macchinario. Ci vuole qualche macchinario. Sì 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 sì. Io direi di tornare a casa e poi torniamo magari con dei materiali. E se rischiamo? Cosa vuoi fare? Andiamo nell'altro pianeta ancora. Dai vai ormai. Non so se finiamo l'idrazina e rimaniamo per sempre qui. Però rischiamocela. È un rischio. È un rischio gigantesco. È un rischio gigantesco. Allora. È enorme. Da? Dov'è? Dov'è? È comparso? In questo momento non possiamo andare in nessun altro pianeta. Aspetta. Forse stiamo finendo il viaggio. Non mi far venire. C'è infarto. Guarda. Vedi? Ah. Ok. Hai cliccato terrestre? Sì. Eh ma è bello questo pianeta. Siamo sulla luna. Sarebbe la luna sì del nostro pianeta. C'è una gravità diversa. Prova a saltare. Oh mio Dio. Che figo. Ma che bello. Che bello che hanno curato anche queste cose. Eh beh dai è giusto così. Guarda il nostro pianeta nemico lì. Lo vedi? Lo vedi il nostro pianeta nemico? Adesso è diventato un pianeta nemico? Sì. Seguimi va. Non perdiamo tempo. Sto utilizzando i pochi titer che mi rimanevano per vedere almeno un pochettino. Che c'è? Eh vabbè ma guarda. Hai capito cosa sono? Sì che ho capito. Sono tantissimi di diversi colori. No ma quanti sono? Eh ma scusa. Questi come te li dovresti portare però a casa? Ah dovresti fare una cosa di... C'è la piattaforma qui. Te la fai qui. E allora li lasciamo lì. Ce ne torniamo a casa. Pensi che rimangano? Può essere. Può essere. Io ne ho preso tre. Prendi neanche tu qualcuno. Ok vado. Io porto a casa questi tre. Allora. Perché questi sono i più interessanti. A me sono quelli che intrigano di più. Perché sembrano delle specie di cargo. Capito? Qualcosa addirittura di umano. Però non vedo altro. Cos'è questo? Litio. Anche qui. Sì però quello posso prendere. Ah no. Ok. No. Riesci a prendere? Ascoltami. Riesci a prendere la parte esterna. Ok. Quindi se ti capita fortuna che ce n'è un esterno. Dici quello? No. Se riesci ad acchiapparne abbastanza esterno. Riesci a farti un litio. Ho appena preso uno di litio. Che cos'è strano? Lo vedi? Lo vedi com'è strano? No questo lo voglio fare. Questo lo facciamo? Beh non possiamo. Allora. Questo quindi pianeta delle ricerche è l'altro dei materiali. Perché davvero i materiali sono molto molto meglio. Quindi. Allora praticamente i pianeti servono per cose specifiche. Io pensavo fosse tutto esplorazione. Invece servono per cose specifiche. Beh scusa. Non hai mai notato che non abbiamo ancora trovato loro? Sì è vero. In che pianeta sarà? Capito? E beh ovvio. O sarà dentro questa ricerca sconosciuta che sembra bellissimo? Insomma. Non lo so. Non lo so. Sono soddisfatto ti dico solo che comunque ci stiamo portando a casa quattro di litio totale. Perché ne ho messo uno nella navicella e tre ce li ho addosso. Quindi sinceramente non sono più così tanto deluso. Abbiamo comunque esplorato due pianeti. Eh voglia voglia. Sappiamo adesso che cosa servono entrambi. Esatto. Quindi sono molto molto soddisfatto. Comunque tre viaggi. Perché questa adesso la finiamo. Ricordiamoci che è servato io per tre viaggi. Eh sì. È vero. Tre viaggi. Quindi almeno lo sappiamo se ci vogliamo spostare da una parte all'altra. Il mio dubbio è... Torniamo a casa. Sì. Però noi eravamo andati in questo pianeta e da questo pianeta non stavamo riuscendo ad andare comunque agli altri. Forse devi aspettare... Poi che è la vicella migliore. No. Secondo me devi aspettare che si allineino. Allineino. Capito? Ok sì. Ebbene. Quindi nel momento in cui sono più vicini... O magari una navicella migliore. Non lo so. O magari una navicella migliore. Potrebbero essere entrambe le cose. Però sarebbe più figo. Allora con tutte quelle cose di ricerca secondo me ci facciamo davvero tante cose nuove. Tante cose che ancora non abbiamo scoperto nel gioco. Quindi sarà molto interessante vedere. L'idrazina giusta giusta quanto stiamo rischiando. Dobbiamo fare un attimino un ragionamento. Ci serve tantissima resina. Perché con la resina si espande tutta la base. Tramite la resina poi facciamo un sistema di ricerca. Ok. Quindi ce ne andiamo tipo con dieci di resina nella luna. Eh sì. Facciamo tutta la base lì. Creiamo il sistema di ricerca. E facciamo la ricerca di tutto quello. Proprio ricerca profusione facciamo. Quindi per il prossimo episodio abbiamo bisogno di farmare la resina per andare. Per costruire tutta la base. E l'idrazina perché abbiamo troppo poco carburante e non possiamo rischiare. Quindi abbiamo bisogno di queste due cose. Dopodiché rivoliamo. Facciamo tutte quelle ricerche. E poi dobbiamo decidere un po' da farsi. Magari lì scopriamo qualche cosa da craftare davvero interessantissima. E quindi torniamo in base per fare quello. Certo certo certo. Altrimenti possiamo pensare di tornare ad esplorare qualche altro pianeta. È interessante. Abbiamo tante cose da fare e tanti nuovi obiettivi. Sono felice che comunque il gioco sia abbastanza longevo. Ha preso una svolta. Esatto. Che non finisce. Io pensavo fossimo lì lì per finirlo. Che i pianeti non dessero tutte queste cose così complicate e diverse. E invece sì infatti sono felicissima perché ci potremmo fare tanti altri episodi. Esattamente. Però finalmente siamo nella nostra casettina piccolissima. Mi sento a casa. Mi mancava. Non criticherò mai più questo pianeta. Niente più porcospini. Niente più preoccupazioni. Direi di fermarci così per questo episodio. Speriamo che vi sia piaciuto. È stato davvero... E ricordatevi l'hashtag perché per questa serie ce l'ha stata. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni. E soprattutto i porcospini sono antipatici. Non prendete mai un porcospino. Non prendete i porcospini perché poi rotolano e sono un problema. E poi vi fanno male alla testa. E fanno male alla testa. Beh ragazzi. 10 minuti del video. 10 bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.